È mio! Nico aveva un sacco di giocattoli. Li teneva in una cesta e non li divideva con nessuno. È mio! Erano le sue parole preferite. I suoi giocattoli erano tristi perché amavano giocare con tanti bambini. Un sabato Nico si svegliò felice. Aveva tutta la giornata per giocare, ma si accorse che i suoi giochi non funzionavano più. Bussarono alla porta i suoi cugini, tre gemelli. Mi presti il tuo treno? chiese uno dei tre. Va bene, rispose Nico. Tanto non funziona, pensò.